E olezzava la terra, stride all'uscio dell'orato, e un passo sfiora... Cari amici di Toscana Sprint, eccoci tornati al ristorante e pizzeria One Penny di Lucca per l'annuale gara amatoriale in ricordo di Marco Pantani. Siamo giunti esattamente alla diciannovesima edizione del trofeo ricordando Marco Pantani organizzata dalla società ciclistica pedale d'Uccese Poli di Pierluigi Poli con anche tutti i suoi collaboratori, quelle che state vedendo sono le gare, sono quello che è il pre-gara. In totale pensate ci sono stati tanti atleti che hanno dovuto rinunciare a partecipare perché c'era tantissima adesione, eccolo qui nell'immagine proprio Pierluigi Poli, organizzatori di questa manifestazione, anche Francesco Fiorenza presente, un grande vanto sicuramente anche per il Comune di Lucca e il nostro Giuseppe Tomei è andato a sentire l'assessore Fabio Barsanti. Fabio Barsanti, assessore allo sport del Comune di Lucca che oggi darà il via a questa manifestazione che anche per la bellissima giornata ha avuto una partecipazione notevolissima. Oggi abbiamo avuto effettivamente molta fortuna e una gara alla quale tenevo perché comunque sia l'importanza del ciclismo a Lucca, soprattutto poi quest'anno, ma anche del ciclismo amatoriale. Il Master è ovviamente una risorsa per la città quindi ci tenevo a essere presente alla partenza e all'arrivo. Tra l'altro tantissimi atleti provenienti da tutta la Toscana, dobbiamo dire che il numero massimo consentito è di 200 atleti ma addirittura qualcuno non può partire. Quindi è un successo oltre ogni previsione. Significa che c'è questa cultura, questa aspettativa nella nostra città per quanto riguarda uno sport come il ciclismo che è di grandissima tradizione e quest'anno è un anno particolare perché comunque stiamo cercando di avviarci anche piano piano alla data dell'8 maggio che è la data del Giro d'Italia e quindi tutte quelle che sono anche iniziative che vengono fatte di anno in anno dalle società sportive quest'anno assumono un tono anche coriaceo attorno a quello che è il Giro d'Italia che quest'anno sarà dopo 39 anni nella città di Lucca. Allora grazie e buon appuntamento dopo l'arrivo. Grazie a voi. Abbiamo sentito le parole dell'assessore Fabio Barsanti del Comune di Lucca dove ha ricordato chiaramente l'importanza di questo 2024 anche perché ci sarà il passaggio del Giro d'Italia quindi molto importante anche per tutto quello che sarà vediamo anche il servizio a scorta tecnica che oggi è affidato alla Moto Guzzi di Prato ennesima prova per loro per questo diciamo prestagionale nelle gare amatoriali quando ci sarà l'esordio poi la prossima settimana per le gare ovviamente della federazione per quello che concerne Elite Under 23 con la grande partenza ovvero la Coppa San Geo e la Firenze Empoli abbiamo visto anche Pierluigi Poli ormai vicinissimi alla partenza di questa diciannovesima edizione del trofeo ricordando Marco Pantani ricordiamo l'arrivo sarà come quello classico in salita quindi ci sarà da battagliare proprio lì davanti a tutti l'arrivo come sempre sarà su verso ovviamente il Prato Verde dopo 60 chilometri dopo tanti chilometri pianeggianti ed eccole qui vediamo stanno iniziando a pedalare anche gli atleti che abbiamo visto abbiamo detto sono tanti tanti hanno dovuto anche rinunciare ricordiamo che è anche valido come campionato provinciale fede della federazione ciclistica italiana proprio si cerca di andare a passo d'uomo è un piccolo tratto che li porterà poi il chilometro zero eccolo qui il chilometro zero pronto proprio l'assessore Barsanti con in mano con Pierluigi Poli che sta fermando tutti gli atleti eccolo proprio la bandiera a scacchi pronto per dare il via a questa diciannovesima edizione del trofeo ricordando Marco Pantani fremono ovviamente gli animi per questa gara ed è partita ufficialmente vedremo chi se la giudicherà a questa diciannovesima edizione ricordiamo che quest'anno sarà anche un anno in portante per quello che sarà ovviamente per Luca perché ci percorre ovviamente il centesimo anno dalla morte di Giacomo Puccini un grande compositore che ha fatto tantissimo dalle opere La Bohème La Tosca La Madame Butterfly Turandò che è stata diciamo l'ultima l'ultima prova del grande compositore toscano poi ovviamente prima poco prima della morte poi è venuto a mancare nel 1926 però quest'anno nel 1924 scusate è stato quest'anno proprio saranno i cento anni in ricordo di Giacomo Puccini e intanto due atleti al comando che stanno provando ad evadere sul gruppo che sta inseguendo la morte di Giacomo Puccini e la morte di Giacomo Puccini e la morte di Giacomo Puccini abbiamo appena sentito una delle opere del maestro Giacomo Puccini come detto l'abbiamo ricordato prima saranno cento anni dalla sua scomparsa subito movimentata questo trofeo ricordando Marco Pantani subito veramente molto combattuta possiamo vederlo anche dalle immagini della nostra motoripresa gruppo che si sta spezzando in più troncone è il classico è la classica diciamo partenza di questa gara perché tutti gli anni partono veramente forte già due atleti che hanno preso un po' in largo adesso stanno provando piano piano a venire via altri atleti vediamo Drupetti però gruppo che è rientrato sui contraattaccanti però gli altri i due uomini al comando rimangono sempre lì vedremo anche come se riusciranno anche ad avvantaggiarsi adesso il gruppo si riappalla un po' e siamo tornati andiamo subito a prendere i due fuggitivi eccoli qui li vediamo anche nel dettaglio e si tratta di Stefano Lunardini per quello che riguarda della BC Sport Sanguinetti per Stefano Lunardini l'atleta invece al comando che sta facendo l'andatura ormai da diversi chilometri si tratta di Matteo Del Mancino Matteo Del Mancino della Speedy Bike quindi atleta che si può dire corridore della formazione lucchese che potrebbe anche vantare per il campionato provinciale questi due uomini al comando ormai stanno marciando da diversi chilometri un vantaggio di una trentina di secondi in questo momento dopo 10 chilometri di gara percorsi sono 30 sono 30 secondi per i due fuggitivi per ora al comando sempre il corridore della Speedy Bike in prima posizione ovvero Del Mancino come abbiamo ricordato del Mancino come abbiamo ricordato alle sue spalle Lunardini ecco qui andiamo anche a prendere nel dettaglio il corridore con il dorsale numero 55 che da diversi chilometri è stato uno diciamo hanno attaccato insieme poi sono riusciti a venire via senza alcun problema e Lunardini in seconda posizione questi due uomini abbiamo detto viaggiano con un ritardo di un vantaggio scusate di 55 secondi abbiamo anche ricordato anche prima di questo centenario ricordando ovviamente Giacomo Puccini perché sono 100 anni dalla morte del compositore toscano intanto siamo tornati dietro sono due atleti che provano a sganciarsi si tratta di Bruno Sanetti della Sanetti System Cars Stefan e l'altro è Alessandro Rocchiccioli alle sue spalle corridore della Team Promotech MGK Vis questi due atleti stanno provando ad uscire sul gruppo e si sta accodando vediamo un terzo atleta esce dal gruppo ci sembra la sagoma di Stefano Carignani di Stefano di scusate di Carlo Bugliani della BC Sport Sanguinetti ed è così infatti è piombato quindi abbiamo tre uomini all'inseguimento dei due uomini al comando diciamo che Sanetti in questo momento sta provando a cercare anche la collaborazione dice giriamo giriamo cerchiamo di trovare l'accordo per andare a chiudere ricordiamo sono 10 30 secondi il vantaggio della coppia al comando coppia al comando siamo ritornati in questo momento proprio sulla coppia al comando quando di chilometri percorsi ne abbiamo fatto 15 15 chilometri di gara percorsi e tra l'altro il gruppo mi sembra che si sia veramente molto avvicinato ai due uomini al comando è proprio così si stanno veramente molto molto avvicinando ormai vicinissimi veramente a quello è poi anche di vari ringraziamenti ringraziamenti ovviamente anche la città di lucca presente con l'assessore Barsanti anche a cicli tommi al ristorante one penny che ha dato tutti gli spazi per il pregara e siamo sempre con il duo al comando del mancino e lunardini sono i due atleti ormai al comando e dietro sembra essere sempre sanetti della formazione stefan che si sta incaricando dell'inseguimento sempre Rocchiccioli forse alle sue spalle non sarà facile però il vantaggio è riuscito nonostante sia solo Bruno Sanetti a lavorare prima cercava chiedeva anche una collaborazione dietro gruppo veramente lunghissimo e siamo con il gruppo compatto ormai gruppo compatto ripresi in questo momento i due uomini che erano al comando mancano tre giri alla conclusione come detto abbiamo percorso 24 chilometri di gara e c'è un attacco nuovo attacco in testa alla corsa vediamo eccolo qui nel dettaglio il corridore che è uscito in questo momento Francesco Banti che è uscito dal gruppo Francesco Banti della Cicli Falaschi che ha preso la testa della corsa quando mancano come abbiamo percorso 24 chilometri di gara vedremo anche cosa succederà poi da dietro se si muoveranno questa è una corsa che si decide sempre nel finale sulla salita finale si decide però il vantaggio sembra essere abbastanza buono vantaggio di 15 secondi per il corridore della Cicli Falaschi come detto Banti che ha attaccato certamente da solo sarà difficile dicevamo che questa è una corsa un po' particolare si decide sempre nel finale però comunque sia ci sono stati molti attacchi a volte ad esempio ricordiamo quello di Scopetani nel 2020 che fino arrivò terzo nonostante la stanchezza veramente riuscì a portare via dentro c'era anche il compagno Davide Lombardi che questa corsa tra l'altro l'aveva già visto protagonista quindi l'aveva già visto vincere ad esempio nel 2018 poi tanti podi per lo scalatore di Fiesole che veramente lo abbiamo nelle immagini di tante le sue azioni ad esempio nel 2020 rischiò di vincere arrivò veramente con una grande rimonta da dietro poi non riuscì siamo con il gruppo dietro gruppo che sta cercando di controllare il battistrada al comando Banti che abbiamo detto il vantaggio di una quindicina di secondi l'ultimo rilevamento vediamo che il gruppo viaggia in lunga fila indiana eccolo qui stiamo vedendo proprio nel dettaglio come viaggia il gruppo in lunga fila indiana dicevamo che questa è una corsa che quando poi ci si avvicina alla salita di solito si va sempre a chiudere a meno che poi non venga via un drappello di corridori però è una corsa veramente molto molto animata e quindi aspettiamo aspettiamoci veramente di vedere un grandissimo pubblico sulla salita finale qui ancora nel dettaglio la scorta tecnica affidata alla Moto Guzzi di Prato e noi siamo di nuovo con il battistrada con Banti della Cicli Falaschi che ormai da diversi chilometri è al comando ha percorso 35 chilometri di gara percorsi in questo momento con il corridore della Cicli Falaschi eccolo qui che intanto il corridore della Falaschi si rimette sulla strada principale per affrontare un altro giro da sole in solitare a suo vantaggio sembra essere cresciuto dietro il gruppo non lo vediamo eccolo qui il gruppo di ritardo di 30 secondi 30 secondi il ritardo del gruppo che in questo momento è tirato da Enrico Malavarca della New MT Bike Team 2001 ASD poi alle sue spalle vediamo un corridore con i colori del Team Stefan si tratta di Andrea Mancini del Team Stefan proprio Andrea Mancini che è alle spalle vediamo proprio a occhio al Team Stefan una delle squadre sicuramente del circuito amatoriale tra le favorite sempre comunque il corridore della New MT Bike a fare l'andatura vantaggio che per ora finché si tirerà così a strappi però comunque il gruppo veramente viaggia ad andatura folle possiamo dire che non c'è stato neanche un attimo di riposo perché prima sono andate a chiudere su Del Manginello e su Del Mancino e Lunardini adesso c'è Banti da solo al comando e adesso passano proprio gli altri teti occhio perché vediamo anche un altro corridore Federico Colonna lì nelle prime posizioni lui è un atleta più adatto ad altri percorsi però comunque sia è lì davanti il corridore del Team Stefan e ha i compagni di squadra che stanno lavorando chissà che magari anche se non è come abbiamo detto una sua caratteristica adesso è Andrea Mancini che sta facendo l'andatura siamo tornati intanto di nuovo sulle battistrada su Banti dicevamo percorso magari finale non adatto a uno come Colonna però non c'è da scherzarci che magari che possa pensare nella sua testa di poter fare anche la corsa siamo tornati veramente al comando chilometri percorsi in questo momento 41 chilometri percorsi vediamo che il totale 60 quindi 19 chilometri alla conclusione per il battistrada e vediamo che ultimo giro suolo della campana quindi si va verso quello che sarà il finale di questo trofeo ricordando Marco Pantani organizzato dal da ovviamente da Pierluigi Poli dal pedale Lucchese Poli Pierluigi Poli con tutti i suoi ovviamente collaboratori con l'aiuto anche del comune di Lucca della federazione ciclistica italiana del comitato provinciale di Lucca presieduto da Pierluigi Castellani intanto lasciamo andare il corridore al comando e occhio perché dietro si evolve la situazione si evolve ancora la situazione lo vediamo sta venendo via un corridore 25 secondi per questo corridore all'inseguimento del San Ginese lo vediamo lo andiamo anche a vedere si tratta di Paolo Rilli del ciclo team San Ginese Paolo Rilli che sta provando chiaramente probabilmente sente però si è già rialzato sembra essersi rialzato un po' no si volta Paolo Rilli continua nella situazione gruppo che non è distante comunque gruppo che non è distante vediamo anche quello che succederà sembra un gruppo anche abbastanza in rimonta sul corridore del ciclo team San Ginese infatti si è già rialzato probabilmente la nostra intuizione che si era rialzato era vera arrivano altri atleti avanti sono sempre le maglie del team Stefan nelle prime posizioni del gruppo a guidare il gruppo all'inseguimento del corridore del team del ciclo della ciclifalaschi Banti che ormai da diversi chilometri ha animato da quando sono stati presi del Mancino e del Mancino e Lunardini è andato in avanza scoperta da solo difficile che ce la possa fare lo abbiamo detto il suo vantaggio è già un po' sceso da 30 secondi è andato a 25 però comunque sia è lì è un'altra atleta della ciclifalaschi si porta lì davanti forse per controllare che nessuno provi anche per rompere i cambi si tratta di Federico Marzi che era davanti ma vediamo che il gruppo riprende la sua marcia era solo un attimo di anche per rompere il ritmo del gruppo che sta in seguendo ormai da diversi chilometri e qui vediamo anche l'assistenza tecnica di Cicli Barone con Sergio Retico alla guida e Pierluigi Poli in moto immancabilmente abbiamo sentito ancora le note del compositore Giacomo Puccini veramente abbiamo detto quest'anno saranno 100 anni quindi ci saranno tante cose a Lucca per ricordare Giacomo Puccini anche il ciclismo lo ricorderà sicuramente oggi ma come ovviamente anche con altre manifestazioni il compositore come abbiamo detto tra i più importanti assolutamente è venuto a mancare nel 1924 e con l'ultima sua opera la Turandoc che era rimasta addirittura diciamo incompleta siamo sempre con il Battistrada con Banti della Cicli Falaschi ormai da diversi chilometri in avanza scoperta da solo chilometri percorsi 55 quindi ormai siamo lì siamo lì veramente un finale sarà vincente vediamo vediamo dietro si stanno veramente combattendo vediamo quanto ormai siamo vicinissimo siamo vicinissimo a rientrare vediamo ed è un altro atleta che prima si era prima aveva provato a tirare per diversi chilometri Bruno Sanetti della Sanetti System Cars Stefan che è davanti a fare l'andatura gruppo a grande velocità grandi falcate per cercare di rientrare sul battistrada per non permettere al corridore della Cicli Falaschi di affrontare la salita finale in solitaria arrivano anche le maglie della New MT Bike 2001 che stanno provando ad avanzare è ovvio che ora c'è la lotta per prendere anche le prime posizioni la salita finale siamo già in salita con Banti è riuscito a prendere siamo a 3 chilometri dall'arrivo con Banti vediamo se riuscirà a trionfare il corridore della Cicli Falaschi se la meriterebbe sicuramente visto i tanti chilometri di fuga visto anche che era da sole in solitaria e ha resistito alle varie trainati del gruppo al grande lavoro ad esempio del team Stefan che per tanti chilometri si è proteso in avanti vediamo che la nostra telecamera va si sta voltando non è mai una cosa positiva ora mancano 3 chilometri all'arrivo in questo momento quindi passato il cartello dei 3 chilometri alla conclusione per il corridore del Cicli Falaschi che si è voltato per 2 o 3 volte a controllare la situazione vantaggio che sembrava scendere in precedenza quando era in pianura lo lasciamo andare e vediamo dietro gruppo che sta provando a rientrare c'è uno scatto in testa al gruppo sta rientrando sta provando ad uscire dal gruppo un corridore andremo anche a vedere il dorsale per identificarlo eccolo qui che esce lo abbiamo visto per un attimo due atleti per l'esattezza due arrivano altri adesso inizia la selezione si trattava di Leonardo Dasso del team più sport e adesso viene rilevato da un altro corridore al comando siamo veramente in salita si stanno avvicinando a Banti i corridori del gruppo quando ormai manca veramente poco alla conclusione meno di 3 chilometri abbiamo passato ormai il cartello un gruppo abbastanza folto quest'anno non c'è stata la solito non l'hanno presa subito da fondo forte vediamo vedono Banti possiamo dire che si conclude qui l'avventura il sogno di vincere questa diciannovesima edizione di ricordando Marco Pantani per Banti però bisogna fargli veramente un grande applauso veramente un grande applauso per Banti ricordiamo anche il ringraziamento anche al ristorante One Penny alla Cicli Tommy alcuni sponsor della manifestazione vediamo ancora Banti che rimane ancora al comando gruppo si è ristretto si è un po' ristretto però è ancora allungato c'è abbastanza ancora per fare ritmo vediamo quello che succederà sembra come si dice la quiete proprio quiete non è però possiamo dire ritmo alto ma regolare potrebbe decidersi tutto nel finale questa diciannovesima edizione vediamo quello che succederà si voltano con gli atleti si guardano si controllano vedremo chi riuscirà a prendere e chi prenderà l'iniziativa di solito qui è sempre successo che era già selezionato il gruppo invece quest'anno il gruppo è molto folto quindi vedremo il primo che accenderà la miccia e qui la strada come vedete è molto stretta quindi anche se uno va forte per risalire ce ne vuole per risalire ce ne vuole quindi non è facile forza ancora testa al gruppo vediamo ancora altissimo il ritmo per il gruppo vediamo che cosa chi sarà chi prenderà ovviamente questa gara occhio arrivano anche a doppia velocità su questa curva vediamo un attimo perché adesso bisognerà un po' capire quello che succederà siamo a un chilometro e mezzo e parte parte in questo momento un attacco di un corridore si sembra la sagoma di michael de miri ha appena diciamo lasciato il mondo agonistico il corridore che ha vestito diverse maglie anche quella della polisportiva tripe tetro quella del team pieri nella categoria juniores e adesso lo vediamo sta forzando in salita sicuramente il suo terreno l'abbiamo detto ha appena lasciato le categorie agonistiche michael de miri è proprio lui che sta provando a venire via dal gruppo vediamo da dietro chi gli può rientrare gli arriva subito su di lui un altro corridore che prova era il corridore che stava facendo l'andatura in precedenza ovvero raffaele serafino del team stefan che è rientrato subito brillantemente su michael de miri arrivano da dietro due uomini che stanno provando a rientrare sembra la sagoma di francesco manuel buongiorno l'ex corridore l'ex professionista ricordiamolo per lui il secondo posto dietro a michael rogers al giro d'italia di qualche anno fa sul monte zoncolana è proprio buongiorno e poi dietro di lui c'è mattia bevi l'acqua il corridore livornese ex professionista anche per lui con la maglia della neri sottoli soprattutto campione italiano juniores nel 2016 col team franco ballerini sta rientrando ora in questo momento fabio cini del team promotech mattia bevi l'acqua invece è il corridore cicli maggi mentre francesco manuel buongiorno è il corridore della fmb cycling team mentre il team stefan è serafino questi sono gli atleti al comando in questo momento quindi serafino a fare l'andatura poi vediamo se da dietro c'è un drappello che sta provando a rientrare sempre una maglia del team stefan a chiudere ora è mattia bevi l'acqua vedremo chi riuscirà se da dietro riusciranno a a rientrare non erano distanti non erano distanti ultimo chilometro ultimi mille metri per questa diciannovesima edizione del trofeo ricordando Marco Pantani grandissima affluenza quest'oggi veramente alcuni corridori sono dovuti tornare indietro non hanno potuto purtroppo prendere il via e vediamo ora a fare l'andatura Demiri parte una buongiorno parte ora Francesco Manuel buongiorno prova siamo già all'arrivo per vedere chi si aggiudicherà questa diciannovesima edizione abbiamo il trofeo ricordando Marco Pantani occhio perché vediamo ed è Fabio Cini ed è Fabio Cini che si va a prendere la vittoria del team Promotex secondo è Mattia bevi l'acqua su Michele Demiri vediamo arriva ora Francesco Manuel buongiorno purtroppo ha ceduto e arriva ora invece l'altro è Serafino tanto diamo anche io in arrivo la vittoria di Matteo Villacqua per gli Elite davanti a Marco Diamanti Matteo Calcagno e quarto che è campione provinciale Alessandro Mazzoni master uno Francesco Manuel buongiorno davanti a Lorenzo Guidi che va a prendersi la maia di campione provinciale proprio terzo Labate e quarto terzo Labate e quarto Maretti poi per la master dura vittoria di Fabio Cini che ha vinto anche la generale davanti a Raffaele Serafina Gianluca Randazzo Federico Marsi campione provinciale Nicola Oliani mentre nella master 3 la vittoria di Simone De Vincenzi davanti a Francesco Stefanini Davide Storace Luca Polledri per il campione provinciale Massimiliano Bernacchi per quello che concerne invece la master 4 la vittoria di Simone Pesi davanti a Carlo Bugliani Francesco Di Costa Alessandro Gori e il campione provinciale Giuseppe Pierotti master 5 Francesco Righi ha vinto davanti a Rodolfo Liccione Alessandro D'Agostino Giacomo Nomellini che è il nuovo campione provinciale lucchese per la master 6 Paolo Alessandro Spampani davanti a Luca Bonaguidi Andrea Vevecoli e Luca Mariotti campione provinciale Massimo Paoli nella master 7 Gianluca Ferri davanti a Alessandro Griselli Fabrizio Morelli Franco Martini campione provinciale Stefano Olaboardi e master 8 la vittoria di Alessandro Lenzi la vittoria invece c'è ex agonisti Michel Demiri davanti a Rocchiccioli Anastasia Farnè mentre per quello che riguarda il campo femminile la vittoria per la master woman 2 Alessandro Olari la master woman 4 Letizia Lombardi davanti alla Sandra Vanni per invece le ex agoniste è stata la rasa Rumsaite a vincere la ex agoniste al femminile questi sono gli ordini di arrivo con i vari campioni provinciali per le gare della categoria per questa diciannovesima edizione del trofeo ricordando Marco Pantani abbiamo visto prima anche Giancarlo Pellegrini al fotofinish che ha permesso i vari arrivi e veramente con queste immagini vi lasciamo alle interviste di rito con i protagonisti Fabio Scini vincitore di questa diciannovesima ricordando Marco Pantani con un grandissimo finale sei riuscito a arrivare con qualche merito di vantaggio sì essendo battuto in volata quando ho visto che dei 5 eravamo ero il più lento ho detto provo a partire un po' lungo magari mi lasciano quei 20 metri e poi cerco di gestirli nel finale sui primi due scatti ho pagato perché non sono esplosive poi magari per me è un po' presto come fa queste corse insomma inizio stagione io entro in condizione più avanti però sono stato abbastanza furbo nel momento decisivo e ho avuto fortuna insomma non solo fortuna ma bisogna andare forte per vincere con un arrivo con queste caratteristiche cosa ne pensi di questa gara e del finale allora la gara è stata abbastanza impegnativa anche nei giri bassi perché l'andatura è sempre sostenuta il gruppo compatto poi siamo andati forti anche sotto e la salita è una salita tosta gli ultimi due chilometri sono veramente impegnativi e magari adatti più a un corridore esplosivo io sono più un corridore un passista va abbastanza regolare infatti i primi scatti li ho pagati subito però mi sono gestito non ho mai fatto fuori giri e il finale insomma ce l'ho fatta a verla meglio è cominciata la stagione alla grande vincere la Pantani vuol dire avere una grande stagione di 2024 a chi dedichi questa vittoria la dedico ai miei genitori che non mancano mai le corse vicine ma anche a quelle lontane è una mia amica particolare che durante tutto l'anno scorso diciamo che io non ho corso mi ha fatto compagnia e mi è stata vicina a un momento in cui un po' di diciamo di buio Grace abbiamo qui ai nostri microfoni Rasa Roomsight prima arrivata nel femminile veramente gran risultato cosa ci dici di questo percorso? è stato un bel percorso impegnativo perché comunque sono stati cinque giri dove ci sono state alcune curve un po' tecniche però è una bella corsa belle strade ce la siamo goduta alla fine abbiamo fatto la corsa davanti quindi ho avuto modo di viverla pieno si è andata molto forte dobbiamo dire ecco il finale di gara com'è andata? impegnativo molto impegnativo diciamo che la salita fino al Chiesa è ancora pedalabile poi gli ultimi due chilometri sono tosti bisogna stringere i denti e dare tutto complimenti e tanti auguri per il proseguimento di stagione grazie mille sentiamo nuovamente Fabio Barzanti al termine di questa gara combattutissima abbiamo visto anche partecipatissima anche da parte del pubblico sì si vede veramente tanto pubblico quindi come dire signo di quello che ho chiesto in precedenza che c'è un richiamo di appassionati per questa gara gara che tra l'altro avviene nel ventennale della morte del grande Marco Pantani quindi quale momento migliore per suggerire questo ricordo e mi hanno detto che io purtroppo non ho visto l'arrivo perché non ce l'ho fatta col tempo mi hanno detto che è stata una gara di buonissimo livello i primi cinque erano di altissimo livello quindi complimenti anche a Pierluigi Poli per organizzare questa gara a tutti a tutto lo staff a tutti quelli che ai tecnici insomma a tutti coloro che consentono mai da 19 anni che appunto il memoria Marco Pantani sia una realtà affermata del territorio lucchese l'appuntamento quindi lo diamo al 2025 appuntamento al 2025 dove cercherò di vedere anche l'arrivo a questo punto Pierluigi Castellani presidente provinciale Lucca con le gare ciclamatoriali è partita veramente a tutta in questo inizio 2024 si è partita fortissimo abbiamo già fatto delle gare nel mese di gennaio che come sapete il mese di gennaio è un po' tabù però di fatto abbiamo cercato di sbloccare la situazione e siamo riusciti a fare quattro gare una è saltata per il mal tempo poi la Pantani chiaramente era la nostra gara di apertura la diciannamesa edizione diciamo è esplosa a livello esponenziale con le iscrizioni siamo arrivati a 225 e oltre però il regolamento parla chiaro più di 200 partenti non li possiamo fare comunque che dire è andata bene hanno fatto una bella gara è andato tutto bene anche dal punto di vista di sicurezza e quindi diciamo che il prossimo anno sarà la ventesima edizione e quindi sarà ancora più più bella devo dire come comitato provinciale dobbiamo essere grati anche alla polizia municipale abbiamo visto non solo quella di Lucca ma anche quella di Massarosa che dobbiamo veramente ringraziare per il gran servizio che hanno fatto a favore della gara ma io direi proprio di sì perché quando ci sono loro chiaramente hanno sicurezza in più perché come sapete insomma adesso non è che noi ci guardano tanto bene sulle strade come ciclismo però quando poi c'è la polizia che ci dà una mano praticamente il traffico è stato gestito molto molto bene anche nel finale che il finale è molto impegnativo perché la strada è quella che è quindi diciamo se no non sarebbe il trofeo Pantani però ecco loro ci hanno dato una grossa mano sia giù in pianura che poi all'altezza qui al confine con Massarosa sono stati veramente eccezionali grazie siamo qui con Laura Angeli titolare del ristorante Prato Verde che ormai è l'appuntamento fisso dell'arrivo della Ricordando Marco Pantani quest'anno abbiamo trovato anche una giornata bellissima credo meglio non potevamo arrivare qui a Chiatri Puccini noi siamo onoratissimi che tutti gli anni scegliete questo finale qui è bello vedere il suo moniano questo impegno qui per la ricorrenza di Pantani sinceramente le persone vengono volentieri ammirano il paesaggio tutto intorno quello che abbiamo che si può dare noi alle persone siamo veramente onorati sì quest'anno tra l'altro è il centenario della morte di Puccini quindi credo che sia un anno particolare qui per Chiatri Puccini quindi anche per la vostra attività sì veramente sì noi abbiamo qui a destinazione sotto la chiesa abbiamo la Villa Puccini e sinceramente c'è una ricorrenza sì veramente è una bella cosa perché tanti vengono a visitarla sia il parco tutta la vista ci sono degli bei scorci del mare del lago veramente è una zona molto panoramica Luigi Poli organizzatore di questa Ricordando Marco Pantani 19esima edizione credo che oggi dal clima alla partecipazione meglio le cose non potevano andare sì oggi se si poteva scegliere una giornata meglio non poteva venire perché insomma il clima è bello non è freddo tanti corridori siamo arrivati stasera non è successo niente a parte un pa' di cadute che non credo gravi insomma noi che si organizza si sa il nostro traguardo è arrivare alla sera e che tutto sia andato bene mi sembra che anche a livello organizzativo oggi abbiamo avuto una grande collaborazione sia dai vigili urbani di Lucca che abbiamo visto in cima alla sera quelli di Massarosa quindi diciamo anche il riscontro da parte delle istituzioni per una gara del genere è stato veramente importante Sì da qualche tempo insomma anche le autorità ci danno una mano oggi sono venuti con tre vigili con due pattuglie nei punti più più importanti sicché per questo possiamo anche essere tranquilli da parte si sa bisogna prepararci ora fra poco arriva il Giugno d'Italia tutti dobbiamo essere pronti anche per per questo avvenimento bisogna anche i nostri i nostri volontari insomma saranno tutti pronti per questa grande occasione Arrivo a Chiatri Pulcini quest'anno è il centenario della morte di Pulcini quindi un'occasione ancora più particolare per arrivare qui Sì noi infatti lo vogliamo ricordare questo centenario il coelore che ha vinto ha addossato la maglia con un scritto ricordando Pantani ma sulle maniche ha lo stema di Giacomo Pulcini gli verrà dato un busto non di Pulcini e poi se avete fatto caso durante la gara durante la telecronaca ci sono state delle aree delle aree proprio importanti di opere del nostro maestro Appuntamento quindi al 25 per l'edizione numero 20 Sì c'è un anno per pensarci io intanto intendo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con noi quella trentina 40 persone che vengono a darci una mano e senza di quelle non si potrebbe fare il Comune di Lucca che ci ha dato il patrocinio e è stato anche l'assessore Balsanti qui con noi durante la gara insomma sì che se arriva stasera siamo abbastanza contenti per l'anno